Quello che mi aspetto da ESPO è che ci sia una grande partecipazione, che ci sia un avvenimento molto importante e sentito da parte di tutti. Il nostro paese ha questa grande opportunità dove arriveranno paesi di tutto il mondo, quindi ci sarà un confronto giornaliero e mi aspetto che le persone capiscono quanto è importante essere tutti disponibili a migliorare il paese in cui viviamo e essere sensibili, ripeto, alle persone che sono meno fortunate. Una sana alimentazione conta per tutti, soprattutto per chi fa sport, per uno sportivo. Io ho sempre fatto una vita abbastanza sana e la mia carriera è durata molto più a lungo perché ero molto attento a queste tematiche fondamentali, oltre all'allenamento, come mangi, cosa mangi in determinati giorni. L'ESPO per Milano è una grande occasione per ospitare milioni di persone che arriveranno. Io credo che Milano sia una grande città e credo che sarà accogliente, sarà solidale, sarà dinamica, sarà pronta per questo grande evento. Credo che dimostrerà tutti i suoi aspetti positivi per questa città molto importante, far vedere che è all'altezza di tutte le altre grandi città europee.